Benvenuti alla quinta edizione di RPM Sarevo, Russian Piano Music International Competition, quinta edizione del concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sarevo in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Sarevo. Visto che è un concorso internazionale, la parola Sara per salutare il pubblico internazionale presente. Benvenuti alla quinta edizione della Piano Music International Competition organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sarevo in collaborazione con l'International Piano Competition Scriavi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.